Ciao ragazze, benvenuti al solito appuntamento mensile dei promossi e bocciati del mese questo mese è di novembre inizio con i prodotti bocciati Enni allora, anche perché ce n'è uno per categoria ed inizio con il bocciato che è il fondotinta di Avon che vi ho fatto vedere nei preferiti perché sto cercando di smaltirlo in tutti i modi ma lo odio con tutto il cuore è un fondotinta molto molto grasso è pesante sul viso vi dà una sensazione di appiccicaticcio bruttissima non lo ricomprerei mai mai più questo qui l'ho comprato perché stava in offerta a 2 euro e qualcosa quindi l'ho voluto provare ma fa davvero pena quindi tra i bocciati metto lui poi nel Nii metto questa matita della Corfo perché l'ho comprata sia per utilizzarla nella rima interna che sulla rima superiore come riga di eyeliner sulla rima superiore mi piace perché ha un bellissimo nero ma nella rima interna il nero è più non è bello intenso come la riga di eyeliner non è pieno il colore quindi è Enni per questo motivo perché è un prodotto che andrei ad utilizzare solo come riga di eyeliner ma all'interno della rima si la metto però devo stare lì a ripassarla perché va via subito quindi si trova nei Nii per questo motivo c'è tanto prodotto perché comunque come potete vedere è abbastanza lunga la matita dall'altra parte abbiamo uno sfumino quindi comunque è molto carino anche il packaging e permette anche di sfumare in maniera precisa con questo applicatore ed è la 01 Black ed ha una scadenza di 18 mesi poi come prodotti promossi inizio col mostrarvi due blushini di Essence che fanno parte della linea Silky Touch Blush il primo che vi voglio mostrare è questo qui che è quello lì nuovo ed è il 60 Life's Cherry del 60 ed è innanzitutto molto molto setuoso come potete vedere è super scrivente questo è lo svozzo molto molto intenso come colore una volta sfumato dà un bel effetto salute sul viso mi piace davvero tanto e poi sto utilizzando stratificandolo questo qui il numero 10 sempre della stessa linea l'Adorable perché sulla mia carnagione questo colore non si nota per niente e ho seguito insomma il consiglio di Eleonora ovvero eccolo qui lo sboccio vedete non si nota proprio ovvero quello di stratificarlo vedete risulta quasi trasparente quindi io lo vado a stratificare facendo più passate e ottenendo così un colore più pieno pure per utilizzarlo perché l'avevo accantonato perché come potete vedere non si nota molto sulla mia carnagione quindi vado lì a stratificarlo con il pennello faccio più passate e questo insomma è il colore poi sulle guante ha tutt'altro effetto quindi fra i promossi metto questi due blushini di essence della linea Silky Touch Blush poi sempre per quanto riguarda prodotti di make up vi faccio vedere questo mascara qui che è quello lì nuovo ed è il Go Lashes Wild ed è un volume un mascara volumizzante quello lì fatto con lo scovolino con le tre palline è molto molto carino ha un packaging rivoluzionario secondo me perché è morbido e permette di prelevare bene tutto il prodotto anche quello che si annida negli angoli ai lati quindi è molto molto comoda come confezione all'interno c'è 7 ml di prodotto ed ha una scadenza di 6 mesi l'effetto è questo qui che vedete non so farvi vedere bene il mascara comunque è questo qui e l'ho utilizzato per questo trucco e insomma mi ci trovo molto bene non lo paragono alle love extreme che è il top però devo dire che è molto molto buono poi sempre per quanto riguarda il make up sto utilizzando molto anche questo set della Catrice per le soprazzia che avevo accantonato ed è molto molto buono l'ombretto marrone che vedete che ha quasi un buchino lo utilizzo anche per sfumarlo nella piega è molto molto comodo e devo dire come polveri sono molto resistenti e scriventi l'unica cosa ad esempio che non mi piace è vedete che le polveri sono molto molto simili tra loro cioè una ragazza con i capelli chiari cioè questo prodotto non lo può utilizzare infatti ho visto anche la review di Cleo e praticamente pensa alle mie stesse le mie stesse cose le polveri sono molto molto resistenti però non c'è una vasta gamma di colori da poter permettere anche alle ragazze bionde o con i capelli tendenti al rosso di utilizzare questo prodotto perché praticamente come potete vedere ha soltanto queste due varianti di colore tenete presente che io questa qui beciolina la uso solo come ombretto ma per le soprazzia non la uso proprio utilizzo solo questa qui marrone per me va bene ma già una ragazza bionda o con i capelli che vanno sul rosso questi due colori non vanno per niente bene per il resto ottimo prodotto ha 24 mesi di scadenza ed è 4 grammi di prodotto quindi tantissimo e ha un costo irrisorio questo qui mi è stato regalato per il mio compleanno da una mia amica ecco che cosa ho perso vabbè ha anche il cassettino che tiene la pinzetta e forse il pennellino che mi sarà caduto per terra dopo lo vado a recuperare e si apre insomma in questo in questo modo poi sempre tra i promossi promuovo quest'altro matitone di essence sempre della linea stays no matter what ed è lo 03 twinkling turquoise ed è bellissimo io lo utilizzo sia come matitone vero e proprio come base come riga di eyeliner sia nella rima interna come matita ed è davvero fantastico all'interno ha delle perlescenze verdi bellissime che purtroppo non si possono cogliere dalla webcam è davvero stupendo come colore e ve lo straconsiglio molto molto intenso come vedete l'ho appena sfiorato davvero questi prodotti sono straconsigliati hanno un costo di 3 euro e 10 vi ripeto e sono i nuovi matitoni di essence quelli che fanno parte della linea permanente ci sono varie colorazioni io le ho quasi tutte tranne due no le ho tutti tranne due quindi dovrei andarli a prendere uno con un bronzo e un grigio e così completo insomma la collezione di matitoni di essence che sono davvero molto molto validi come prodotti poi vi faccio vedere due rossetti che sono il dupe esatto del rebel di MAC il primo è il 107 di Kate Moss che io amo ed è fa parte della linea matte con il packaging rosso questo è il colore come potete vedere è molto molto simile al rebel di MAC io non ce l'ho però dagli swatch che ho visto è davvero molto simile è un altro dupe del rebel di MAC è il sugar plum fairy della wet and wild questo qui l'ho comprato senza saperlo al cosmoprofo per un euro ed è il 908C il packaging è fatto in questo modo e adesso vi faccio un vedete questi sono i due i due rossetti li ho utilizzati molto e come potete vedere sono molto molto simili anche se il dupe per eccellenza dicono sia questo qui di wet and wild però non so se in Italia questo genere di rossetto lo potete trovare io la wet and wild non l'ho mai trovata qui anche se una ragazza mi ha detto che la vendevano sul Carmine nelle mie vicinanze non l'ho mai trovata e mi pare che l'hanno tolta dal mercato in Italia quindi non vi so dire sinceramente comunque ve li ho fatti vedere perché sono super promossi durano tantissimo le labbra vi restano pigmentate anche quando va via il colore sono davvero fantastici come non riesco neanche più a parlare trovo però molto più confortevole questo qui di Kate Moss perché questo qua della wet and wild tende un pochettino a steccare le labbra e si stende con meno facilità di quest'altro questo qui pur essendo un rossetto matto si stende benissimo questo qui è un pochettino difficile da stendere e rischiate anche di fare qualche errore quindi per questo motivo comunque prediligo questo qui di Kate Moss anche se voglio dire a differenza di prezzi notevoli 1 euro e 7 euro e 50 cioè voglio dire per 1 euro non ti puoi aspettare proprio il top anche se il colore rimane bello pieno per tanto tempo quindi per me è super come prodotto poi come ultimo prodotto di make up vi voglio far vedere questa palettina della Femme che mi ha regalato Mara e mi piace tantissimo ultimamente sto utilizzando molto questo aspettate che tolgo il pennellino se non mi cade questo colore qui che è un top rosato molto molto bello le altre colorazioni sono un pochettino estive eccetto la dorata che si può utilizzare anche per per il periodo invernale vi faccio uno swatch della di questo top che è quello che ho in questo trucco su tutta la palpebra mobile ed è bellissimo un po' bello molto molto luminoso si stende facilmente ed è super pigmentato vedete bellissimo ha un bellissimo finish mi piace poi hanno un odore fantastico questi rossetti un altro colore molto bello è questo beggiolino che va quasi sull'argento ed è questo qua va quasi all'argento rosato dalla webcam sembra un bianco ma è un argento tipo rosato comunque è molto molto bello vi faccio lo swatch anche del dorato che si può adattare al periodo invernale sembrano quasi cremosi a tatto questi ombretti ed eccolo qua comunque è molto molto bello anche questo e questa palettina è la 02 sono prodotti che non sono testati su animali l'inci non è benissimo perché all'interno troviamo il petrolato però è molto molto carina per chi a me non interessa l'inci quindi per me non è un problema io la odoro è a 24 mesi di scadenza e vi ripeto come potete vedere anche dal simbolino del coniglietto giù in basso non è testata sui animali poi adesso mi pulisco le mani se no insozio tutto sarà difficilissimo togliere i rossetti ve lo dico vedete questo qua con la chiazza rosa fucsia è quello della wet and wild cioè è difficile anche da struccare ve lo posso garantire veramente ci sono state sere che ho buttato il sangue infatti non ci ho rinunciato il giorno dopo lo tenevo ancora lì intatto infatti adesso vi faccio vedere che a mano pulita la chiazza rosa del wet and wild c'è è super super resistente vedete qua avevo sbocciato quello della wet and wild è molto molto resistente è molto secco come formulazione rispetto a quello lì di di rimmel però sono davvero buonissimi questi rossetti infatti farò scorta anche perché molti rossetti della wet and wild sono i dupe dei rossetti di mac quindi sinceramente vedendo anche su vari blog di americane mi segnerò i vari numeri e andrò al cosmo prof me li vado a comprare anche perché per un euro che cosa vuoi di più adesso vi faccio vedere i prodotti per la cura del corpo e capelli un prodotto che mi piace tantissimo è questo deodorante della roberts alte verde e lime è un deodorante buonissimo freschissimo è 75 ml di prodotto non bisogna dire il prezzo perché l'ha comprato l'altro giorno mio padre qua dice un'esuberante fragranza con fresche agrumate note per momenti di frizzante vitalità ed è vero perché è un odore molto molto buono e duraturo quindi promosso poi un altro prodotto che mi piace tantissimo questo qui me l'ha regalato la mia amica Cristina quando ho fatto l'ordine il brochet ha detto il primo regalo che mi mandano te lo regalo a te così lo recensisci anche sul canale mi ha fatto piacere perché il prodotto è fantastico ed è la latte nutriente pelli secche cioè la mia crema praticamente alla mandorla dell'ivroscena anzitutto ha un odore buonissimo io poi l'ho utilizzata sia per il corpo che idrata tantissimo e rende la pelle morbidissima sia dopo la depilazione per i baffetti e non mi ha fatto uscire i rossori non mi brucia non ho utilizzato l'olietto che esce dalle striscette quelle salvettine con l'olietto ma ho utilizzato questa crema e non mi ha fatto bruciare non mi ha creato irritazioni perché ogni volta che faccio i baffetti mi si screpola tutto qua è bruttissimo da vedere e ho voluto provare questa crema per vedere proprio l'idratazione ed è anche per il viso per queste zone delicate dopo la depilazione molto molto adatta come crema è buonissima un odore fantastico è troppo troppo buono e si stende bene non si asciuga subito e lascia un odore fantastico sulla pelle e insomma si nota la differenza per esempio qua che l'ho applicata sulla mano si nota la differenza cioè dovete andare in negozio a provarla o a ordinarla perché è qualcosa di fantastica ed è la nutrizione dell'ave rocher per il corpo buonissima davvero buonissima e ho fatto un piccolo ordine l'ave rocher e ho preso il rossettino che vi ho fatto vedere nei preferiti e due prodotti per capelli che stavano in offerta questo qua mi è stato regalato vi dico la verità quindi non vi so dire il prezzo poi ho comprato io a 3,95€ il pezzo lo shampoo protezione e luminosità senza silicone senza parabene senza coloranti per capelli colorati date che ho fatto questo trattamento voglio insomma curare un po' di più i miei capelli quindi ho voluto comprare questo shampoo che devo dire è ottimo l'ho già provato ed è a 100ml di prodotto se non erro anche se qua non lo dice ma sul Depliant a 300ml di prodotto scusatemi è davvero tantissimo vi durerà tantissimo anche perché io del libro ci avevo provato l'altro shampoo quello lì per riflessi castani che pure è ottimo e davvero esaltava i riflessi naturali dei vostri capelli però dato che comunque ho fatto un trattamento ho preso uno shampoo adeguato adesso ed è buonissimo vi dico cosa vi dice la la recensione dietro prendetevi cura dei vostri capelli colorati grazie a questo shampoo a base di biancospino dalle proprietà protettrici provenienti da agricoltura biologica i capelli risultano nutriti e protetti ed è vero il colore dura più a lungo applicare su capelli bagnati e risciacquare abbondantemente come tutti gli shampoo ed è il shampoo protection colore a 3 euro e 95 sul catalogo in negozio non so sinceramente quanto costa e abbinato allo shampoo ho comprato anche il balsamo sempre questo qua il balsamo è però 150 ml di prodotto quindi 150 ml in meno rispetto allo shampoo però tenete presente che ne basta poco voglio dire di balsamo ed è 12 mesi di scadenza ed è lo shampoo insomma il balsamo della stessa linea dello shampoo devo dire che nutre a fondo i capelli li lascia che sono morbidissimi e nutre io lo metto in particolare sulle punte perché comunque le punte dato che sono trattate si sono un pochettino inaridite e le vado a nutrire con questo balsamo e devo dire mi ci sto trovando divinamente e se vi interessa vi faccio anche il video della mia hair routine dato che comunque sto sperimentando vari prodotti per i capelli mi fa piacere insomma farvi un video se vi interessa anche perché la trovo una cosa utile perché per chi ha questi trattamenti comunque per mantenerli belli e luminosi i capelli bisogna insomma utilizzare dei prodotti appositi e niente ragazze questo è quanto questi sono stati i miei promossi e bocciati di questo mese io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao